Buona giornata! Oggi una frase importantissima per la tua felicità, per aumentare il tuo piacere, il tuo piacere di vivere, quindi importantissima. Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare. Walter Begeot. Questa frase è bellissima, sì, perché il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone che dicono che non puoi fare. No, ma non ce la farai mai. Ma che lo fai a fare? Ma non lo vedi che non sei portato? Ma non lo vedi che tanto non ce la fai? Ma non lo fa nessuno? Perché lo vuoi fare te? E invece tu vai dritto, dritto verso i tuoi sogni, verso quella cosa che tutti ti dicono che non puoi fare, che non ce la farai mai. Il piacere più grande è farcela! Oh Dio santo! Allora, oggi veramente cerca quella cosa che hai rimandato di fare sempre, che ti piacerebbe tanto fare, che veramente se riuscissi a fare ti darebbe una gioia immensa e comincia a vedere come, cosa ti serve per arrivare a fare quella cosa. Prendine consapevolezza, fai un piano d'azione e comincia, comincia oggi. Oggi, perché oggi si scrive il futuro e il tuo piacere. Daniele Paci, per felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata! Ciao!